Fermi tutti perché qui abbiamo delle grandissime novità che riguarda la storia di Elettra Lamborghini e Ginevra Lamborghini. Sì, perché il duro botta e risposta finalmente fa tirare fuori una risposta vera da parte di Elettra Lamborghini che risponde alla sorella. Finalmente è uscita fuori, quindi durante l'ultima puntata ricordo che le due ricche ereditieri di Sant'Agata Bolognese hanno iniziato a venire una contro l'altra, frecciata di qua e frecciata di là. Hanno iniziato, sì, quantomeno a iniziare un dialogo, un dialogo che proprio non ne voleva sapere di andare avanti nel modo giusto e c'è stata una reazione. È stata in questo caso Ginevra che ha sempre affermato di non sapere perché la sorella ce l'abbia tanto con lei. Ma d'altro canto la cantante, moglie di Afrojack, durante la diretta ha lanciato un paio di frecciate molto eloquenti, seppur non abbia usato neanche una parola, perché alle volte si dice che le parole non servono, no? E come è sin troppo chiaro sono tipo tre anni che fra le due non c'è alcun tipo di rapporto, quindi si pensa sempre di più che ci sia sotto un qualcosa di veramente, veramente grave. E nonostante la diffida in corso, perché ricordo che c'è stata una diffida da parte di Elettra, ebbene Alfonso Signorini è tornato nuovamente a parlare della cantante di Pam Pam e del suo rapporto con la sorella. Ginevra, triste per questa situazione, si è subito commossa di tutta risposta, Elettra su Instagram ha prima pubblicato una frecciata sulle note di Fabi Fibra, quindi ha risposto in maniera musicale, ma non è finita perché poco dopo è andata su Twitter e ha messo like ad un commento con scritto Secondo me, Elettra per avercela così con la sorella è perché qualcosa avrà fatto, ed è quello che sicuramente stavano pensando tutti, tutti, tutti. Il messaggio non è di certo passato inosservato, e da bravo conduttore Alfonso Signorini ha detto che per la prima volta Elettra si è sbilanciata. Attenzione, Ginevra a quel punto ha preso la parola e ha detto al conduttore, io accetto questa sua reazione, ed a questo punto spero che lei me lo possa dire. Ci sta che io abbia fatto qualcosa, io non sono una santa, non sono perfetta, non ho una aureola. Ma a questo punto me lo dicesse, dimmelo e ne parliamo, se la invito a casa a parlarne, ma lei non viene. Ma sono disposta dove vuole a chiarirsi, eh. Anche a casa nostra, casa di mamma e papà con i fratelli, come preferisce lei, la mia porta è sempre aperta, dialogo è la parola d'ordine. E se c'è qualcosa che se ne parla, beh, insomma, io non mi tiro indietro. Poi invece riprende la parola Signorini che dice a Ginevra Elettra, da un lato ha messo mi piace ad un commento, e c'è un passo. Poi riprende la parola Signorini a questo punto che dice a Ginevra, Ginevra, vedi che Elettra, da un lato ha messo un mi piace ad un commento, magari questo possiamo considerarlo un passetto, no? Vi state lentamente avvicinando, ma quello che ci chiediamo tutti noi, ma è veramente così? Oppure è soltanto un piccolo like, di poco conto. Questo è tutto per questa piccola news, vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo alla prossima, e niente, statemi bene.